Why not, è giusto così. E poi c'è Gigi Kak, il campione in carica. Nooo! Gigi, come mai non sei il campione in carica attualmente? Cazzarico. No, perché non sei il campione in carica? Quello non capisco. Eh no, no. La shoppage questo. Addirittura? Ok, quindi adesso devo rinserire i fogli... Ahia, fa un panino. Il foglio mi è uscito così. Quindi tu hai... No! Sì! 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 Vediamo un po'. Vorrebbe stampare bene il nostro Luigi. Aurosh. Siamo concentrati qui, siamo concentrati. Eh, che fai? Potresti giocare anche con una mano? Vero, però non in questo caso. Sto giocando col CEO di Slug, praticamente. Sì, non so assolutamente chi sia, ma va bene. Io! È proprio lui, è proprio lui! Sì! Ah, quindi si sta facendo il culo noise? No. No, però ce la stiamo tirando. Come? Come? Ma che cazzo è? Oh! 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 Cazzo, che fatica! Ci siamo! Bambani! No! Sì! No! Penna, 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 penna. No, 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 no! Sì! La vendetta! Tac! È entrato prima il bio, che culo! Ah, io questo lo devo modificare pure. Allora... Oh! Ok, almeno quest'altra. Ah! Posizione inferna! Tac! Che cazzo sto facendo? No! Sono morto? Un soffio di vita soltanto! Come uno? Pistol! Ah! Sì! Uno a uno! Un giro! Fatto! Fatto! Quasi! Ho questa tendenza di voler fare X con gli giganti. Cioè fare lo steppino. Però non funziona. Sì! Vado! Via! A me è via! A me è via! È incredibile! No! A me è il teleport! Del living finish! Del living finish! Eccola là! Non lo so chi chiamato! Ma dai! Poi dici che non è top tier! Anche i teleport! Sì! Ah! Guarda là! Ho morto! No! C'è un soffio di vita! Sì! Merda! Oh! È andata benissimo! Ma si è andata poco di pungo! Oh! L'hoffio! Ho resistito a una tentazione incredibile di mollare il cerchio Ma che si dice battuta in inglese? Battuta, joke Joke Ahia, questo spezzaguardia è cruciale Ah ma ho la vittoria matematica Scusa, sì Forza Allora, aspetto che devo qua This is how you might be Whatever we are Eh, per favore, YouTube Ah, scusate No, 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 tranquillo Eh, non lo so Non lo so Ma che cazzo l'ho appena trovato? Sì Ah, ecco su Quindi, praticamente Auro Sì, scusate No, lascialo fare No, 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 scusate, lo sto disturbando È parte dell'atmosfera, non ti preoccupare Non ti preoccupare Io sono qui contro il campione mondiale europeo italiano Quindi posso fare il tifo per te, Gigi? Certo Sì, sì, sì Oh, no, 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 no Eh, non lo so! Tac! E come bene? Solo adesso mi giocano slug con... Giuseppe! Sono abituato! Oh! Attraverso il... sei passato attraverso il muro o urlo? Ma... Ah, Gigi, che sudore! Si sta vincendo, Gigi? Io, io sto vincendo! No! Eh no, Gigi! No! Quindi via Giulia non c'entra niente! Questo va qua... Ahia, sto spezzanguaglia! Beh, vado dalle scatole! Wake me, apri! Bello! Bello! Aprite bella dati! Qua... Via Enrico Giardini! Via! Bello! Vini! Via Giardini se ne va da qua! Aprite bella dati! Ho! 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 ночitario! Ho! N gasto ner so, I cattolo! Ho! Ho! Vini Mo'. l'ultimo video è stata portata a posto no con quello che ho insegnato io attenzione la svolta non lo rifaccio non lo rifaccio Sicuramente è caricata a me No! Secchi, tac, 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 tac Ah, che cazzo faccio? Sì! Vabbè, ha sbagliato Sì! Sì! Eh, vabbò Eh, vabbò Allora, raga, io devo andare perché sta arrivando sul mio fratello E... Quindi, niente, dobbiamo un attimo lavorare davanti all'UPC E... Va bene! 5 euro, 5 euro Aspetta, aspetta, aspetta che arriva... che arriva Eh, facciamo così Sì Ah, così Sì, Yann Sì 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 Troppo cattivo? Troppo rumoroso Nooo Dai, dai, che mi stai... lascialo concentrare, lascialo concentrare Forza, sei a uno, sei a uno Nooo AHHHH Ah Allora, aspettati Ah, cazzo Non lo volevo fare, ma il caricato Exatto Ottimo Eh, non potevo fare nulla, addio Sei tu Uno spiraglio di No Ah, ah Oh Oh Merda Oh 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 Nooo! Nooo! Non ce n'est pas là! 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 Uff! Attenzione! chi sta vincendo si ma io vi posso vedere in qualche modo lo vedrai sul mio canale youtube molto presto no ok nooo lo sapevo cazzo no chi ha fatto un sacco al bruno ma si faccio Il mappazuco lo è Quindi praticamente Non ci credo questa era la mia occasione Questa l'ultima parola il traguardo è un po' vicino ma sempre difficile E lo fa di nuovo incredibile Incredibile Ah ok Oh merda la tech Che bello Sto spezzando E che pappine però Eh babbo però eh Merda Merda Eh 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 Oh merda Oh merda Oh merda Oh merda Oh merda Ultimo spiraglio di vita Attenzione Ma seguiti forte page Porca miseria Si godo Ecco Tac Buona cazzo Guardia Otrico Sì, 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 sì. Siamo nati per questo Merda Ah tu sappi che io ti farò sempre per GG Ah sono abituato Non credo che da 6 anni a questa parte Nessuno faccia più il tipo per me Ma dai ma veramente Eh quando sei tipo Il più forte è normale E ci sta anche che si ti tira contro La parte più debo Vabbè il più forte in Italia In Europa anche potenzialmente al mondo Merda Ma questo mi rovina il match Quindi è quando i prossimi Campionati mondiali Cazzo dovevo parare Mi fa sudare la pagnotta No dicevo quando i prossimi Campionati mondiali Eh ma Eh in Argentina In Argentina nel 2024 È una miseria Tocco che aspetta il 2024 Sì ma non ci vado Perché no Ma perché è una community di merda Eh vabbè ma sei mondiale cacchio Vici che no? No non mi interessa Una cosa che non uso mai La combo aerea Bello No No va Merda No ah e finisce così signore e signore mamma mia che fatica